La buone e gatto Corrad Noi andremo a visitare la villa a Brick da Como Certo Perché non stava male il collo Non stava Il collo da Kiki Accidenti andiamo in fretta Ok State attenti in questa autostrada Perché ci sono lavori in corso Dovete prendere la strada verso Chiasso D'accordo Buona fortuna Mamma mia abbiamo trovato tanto traffico lungo strada Oh mio dio Stiamo sempre aspettando in villa Arriveremo piano piano Scusi Scusi dopo tanto ritardo Sono arrivati in ospedale Quando sono arrivati quello Ehi cani amici Che ne dite Il patro è stata una sorpresa per la sua mamma Wow Cane Yoshock Che sorpresa Mi hai fatto Mi hai fatto Che sorpresa mi hai fatto Sei arrivato fino qui Sei in gamba Siete stati molto bravi Grazie Grazie mamma Cane Yoshock Adesso andiamoci a prendere un caffè D'accordo Andiamo Ok Mmm Squisito il caffè manchiato Anch'io mi piace tanto Tesoro mio A te avete piace molto il caffè Servite Sì molto servito Sì molto servito Sì 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 Grazie a tutti